In questi giorni a Cannes si tiene il Festival del Cinema e da poche ore che sto registrando questo video è stato proiettato il film di Nani Moretti, Il Sol dell'Avvenire. Beh, non so come andrà, se sarà premiato o meno, ma l'unica cosa che ti posso dire è che c'ero anch'io. Oggi ti racconto come ho vissuto questa esperienza e alcuni aneddoti interessanti sul film. Allora, tuffati nel mio mondo! Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Insieme a DivaG siamo un duo comico. In questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, la sua storia, le sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Film Comedy Festival, sì, il famoso festival della comicità muta. Non lo conosci? Allora poi ti aspettiamo qui. Debutare al cinema, anche se in maniera marginale al film di Moretti, è esaltante. Sicuramente non è da tutti cominciare così, infatti mi sento anche molto fortunato e devo comunque ringraziare Vinicio Canestrelli che è stato il fautore di questo incontro. Ho scoperto un mondo dietro a tutto quello che si nasconde ai nostri occhi e devo dire che mi ha affascinato estremamente. Parto con una considerazione per me importantissima. Questo video non è una pubblicità al film, non è una recensione, non è una critica, non è una forzatura politica. In primis non sono così intelligente da spiegarti tutto questo, ma solo voglio darti e regalarti la mia esperienza vista e sentita attraverso i miei occhi. Non ho mai visto un film di Moretti prima di partecipare a questo. Lo so, lo so, lui è un'icona di questo settore. Del cinema è sicuramente affatto tanto, ma forse è un bene, perché così non mi sono fatto influenzare dalla sua nomea o dal fatto di chiamarsi Nanni Moretti. Come ho reagito il mio arrivo? Innanzitutto ti devo confidare che ho anche assistito ad alcuni incontri con la Fandango, perché accompagnavo Vinicio e ho potuto vedere che alcuni personaggi che comandano il settore non sono degli squali, come vengono spesso definiti, ma sono persone semplici che ci tengono molto al loro lavoro. Non ho conosciuto Procacci, ma ho potuto parlare e vedere all'opera e i suoi collaboratori, che quando aprivano bocca ti davano sempre la sensazione che ne avevano passate davvero tante. Ricordo molto bene quelle persone, c'era Gigi, e poi c'era lui, che assomiglia molto al mio padre quando ero giovane. Infatti la prima volta che l'ho visto ho fatto un sobbalzo al cuore. Il sol dell'avvenire è stato incompreso da tutti noi. Sul set non capivamo un'emerita mazza. Perdoni, Sor Moretti, nel senso che era difficile comprendere cosa e come era la storia e ognuno di noi del cast aveva un'idea completamente diversa, quasi come se ognuno di noi si fosse creato questa illusione di aver capito il film. A dirla tutta, nemmeno chi lavorava e aveva letto almeno una parte del copione non aveva in testa come si svolgeva. Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Chi diceva che era un film nel film, con protagonista e una storia d'amore sui set? Chi diceva che era la storia del Circo Budavari in Italia? Chi diceva che era la storia del regista che si registrava? No. No. Puff. Insomma, una confusione tale che ha fatto crescere le aspettative di tutti noi. Cioè, solo Moretti aveva veramente in testa la verità assoluta. Ok, forse sto esagerando un po'. Sono convinto che avrei potuto fare di più se avessi compreso o letto almeno in parte la storia. Sta nella immedesimazione il vero spessore artistico di un attore. Dunque, mi sono perso qualcosa. Ora che l'ho visto è la storia autobiografica di un regista e le sue difficoltà, i suoi enigmi, mentre gira un film con lo sfondo di un circo ungherese. Ma il circo è solo scenografia. Non è un film sul circo. Azione. Lui è atipico. Non è una persona normale. Cioè, non fraintendermi. Intendo dire che attorno a lui c'è tutto il suo mondo. E allora, fatemi lavorare. Si vede che si sente a suo agio dentro a questo mondo e lo gestisce come fosse il suo creatore. È importante, secondo me, che lui abbia questa sensazione, perché è la condizione migliore per creare e rendere materia la sua idea. Lo comprendo molto sotto questo punto di vista. Com'è lui, ti chiederai? È più alto di quello che pensavo e anche affabile. A volte a terra stati emotivi positivi o negativi. Anche con me, affetto, poi distacco. È sicuramente un appassionato di Ferrero Rocher. Come sottoscritto. L'ho visto amare quel cioccolatino come si adora un'opera d'arte. Ne abbiamo qui? Mi è venuto un desiderio. Ma nei momenti di stress, esternà a volte in maniera forte le sue idee. Cioè, alza la voce. Ma in fondo non lo facciamo tutti? Per non esagerare, dai! Sai, a volte sono rimasto ad osservarlo. Pensavo, quest'uomo che è diventato quello che è, che pensieri farà? È in competizione con se stesso? Oppure si compiace per quello che riesce a realizzare? Con lui le represe sono davvero tante. Cioè, in pratica lui continua a fare e rifare la stessa scena di circa un minuto, un minuto e mezzo per tante volte. Nei 50 giorni che sono rimasto lì, beh, ho visto fare massimo due riprese al giorno, perché lui ripete e ripete continuamente la scena. Ho fatto insieme agli altri, intendo, per ogni ripresa anche 25-30 volte la stessa scena. Pazzesco! Ma ora che la guardo dall'altro punto di vista, mi medesimo in lui. In fondo anch'io quando devo creare qualcosa lo ripeto e lo ripeto tante volte. Sì, vabbè, no, proprio... E allora perché mi è sembrato troppo? In fondo, se dovessimo farci delle domande importanti, un visionario o un creativo, quante volte ha bisogno di guardare fuori dalla sua finestra per potersi ispirare? Una sera era tardissimo, penso fossero state le due di notte, eravamo in un esterno e la location era in un interno di un condominio. Mi ricordo che dovevamo salire per le scale preoccupati, correndo per due piani, e le cineprese ci riprendevano. La scena durava 50 secondi circa, penso. Eravamo la babulova davanti, con Orlando e Joel Tanger, e poi una ragazza della truppa circense ed io che chiudevo alla fila insieme ad un altro. L'avremmo fatta per circa 30 volte. Non ci credi? Lo giuro! C'era Orlando con la lingua fuori, non ce la faceva più, e ci preoccupava vederlo così. Insomma, era provato, ma lo eravamo tutti e la scena che si vede nel film... Sai quanto dura? 5 secondi. Sì, perché logicamente è stato tagliato tutto il resto. È il momento che i Gercensi ed Ennio vanno a vedere le notizie alla televisione. Sono convinto che anche un poeta, prima di trovare il verso giusto, cancelli continuamente le sue parole. Dunque è comprensibile. Ma solo in quel momento mi sono reso conto, vedendo il film, che quello che vediamo noi sullo schermo è la milionesima parte di quello che viene girato. Moretti è sicuramente un regista che pretende, ma questo gli fa anche onore. Certo che, con personaggi del calibro di Motto Elmerich, è diverso che farlo con me. Sono attori di comprovata bravura e penso che sia davvero dispendioso, energeticamente, per persone del loro calibro. Rimettersi in gioco ogni volta. È il suo lavoro, dirai. Sì, è vero. Forse hai ragione. Per me era ogni volta una sfida a fare meglio, ma io volevo godermela questa esperienza e temevo di non avere un ricordo di tutto questo. La paura di essere tagliato. Beh, se devo essere sincero, una notte che stavamo riprendendo, nella scena dove siamo colpiti dalle immagini della tv, mi sono commosso a guardare. Insomma, ero completamente dentro il film. Stavo vivendo quella situazione come fosse reale e dentro di me c'era un turbinio di emozioni. Ho sentito il ciac e non ho lasciato libere le mie emozioni. Sentivo la forza di quelle immagini che erano vere. Cioè, erano immagini di repertorio. E la cinepresa davanti a me ha cominciato a riprendere. La scena sarà durata dieci secondi. Poi... Stop! Moretti venne dalla stanza. Sì, perché lui era con il monito sull'altra. E mi diede una manata forte sulla schiena. Bam! Mi girai dal dolore e lui fiero mi guardava. Bravo Daniele, bravo. Con questa ripresa abbiamo finito. La truppa ci ha guardati sbigottiti. Solo tre ciac? Sì, ce ne siamo andati tutti a dormire. Gli operatori mi guardavano come un eroe. Ero il loro salvatore in quel momento. Dentro di me ero già pronto per l'Oscar. Premio come miglior scena di tutti i tempi. Dandy Danno! Beh, questo è quello che ho immaginato io. Cioè, la verità è che quella scena... ...è stata tagliata. Che ci potevo fare? Il mio Oscar, dov'è? Ridatemi l'Oscar! È lui il regista. È il suo film. Non il tuo. Ridammi l'Oscar, dai. Mi ero venduto la scena a tutti i miei amici. Sono andato avanti mesi con questo aneddoto. Il Moretti mi aveva gratificato. Ero già pronto. Mi ero già immaginato lui che mi diceva Grazie. Sei così figo che nei prossimi dieci film farai il protagonista. E non guardarmi così. Sono pezzi di cuore che si staccano. Un'altra cosa che mi ha impressionato sono state le scenografie. Fate da un mostro scenografo con la sua tru. Alessandro. Davvero ragazzi, qua c'è arte. E sapere che tutto quello che vedi era un'illusione è pazzesco. Cioè, davvero era tutto falso. Guarda qui. E' tutto attaccato a dei tubi innocenti. E il paese è stato costruito completamente. Mamma mia. Ma tutto era costruito con questi ragazzoni incredibili che con accento romanesco realizzavano cose da non credere. Tutta la mia stima, ragazzi. In quei giorni sono stato anche in difficoltà. Lo ammetto. Nel senso che io non sono stato scelto come gli attori che erano lì tra casting e provini. Noi eravamo un pacchetto preconfezionato circense. E come ripeto, se non fosse stato per Vinicio, non sarei mai stato sul set. Sì, ti dico la verità. Non ha senso amenartela. Nel gruppo circense, che Moretti aveva bisogno, c'ero anch'io. Facevo il clown del circo. Con il mio costume è truccato molto, come si faceva nei circhi negli anni 60. Ero tutto impasticciato. Ma pur di fare, avrei fatto qualsiasi cosa per essere lì. Una volta ci siamo trovati in difficoltà con la truppa circense. Una di loro creava problemi con il dormire. In pratica si sentiva già candidata all'Oscar come me. Insomma, ci siamo trovati con problemi per dormire. Lenno condivideva la camera con altre ragazze. E dunque, alla fine, ci abbiamo rimesso io e Vinicio. Ma pur di girare per Moretti, ho dormito anche in furgone. Nel famoso Milord. Sarebbe il nostro furgone. Non mi interessava. Ma sicuramente ero in difficoltà per le riprese. Almeno nei primi giorni di riprese. Poi tutto è andato per il verso giusto. E alla fine, privatamente, mi sono trovato in un alloggio dove mi sentivo a casa. Ma dormire sul furgone mi ha fatto capire quanto ci tenevo ad essere lì. Essere l'ultimo in un posto dove non sei considerato per quello che hai fatto o nessuno sa chi sei o cosa fai, ti permette di vivere in condizioni diverse. E la tua mente agisce e si adatta. Una bella esperienza, che non rifarei però. Minimo un 4 stelle, per favore. In quei giorni si è solidificata la mia amicizia con Vinicio, che è così diverso da me, che gli voglio davvero bene. Ho conosciuto Silvio, che ritengo una persona davvero affabile, riservata, ma piena di attenzioni. Poi ho conosciuto Margherita, che mi ha sorpreso. Davvero un clown. È esilarante e con un senso dell'umor pazzesco. Ho conosciuto Barbara, che ho trovato affascinante, soprattutto per i suoi modi molto femminili e sempre appropriati. A suo posto. Però secondo me, forse anche per la mia personalità, a volte invasiva, si metteva un po' sulla difensiva. Ma la comprendo. Anch'io mi metto sulla difensiva, se mi conoscessi. La sorpresa più grande l'ho vissuta con Jolt Anger, l'attore che interpreta il direttore del circo. Un'amicizia nata da subito. Lui parlava solo inglese, e io parlo il d'English. Un mistro tra gesticolare e suoni gutturali, si vede all'inglese. Con Jolt abbiamo passato gli ultimi 20 giorni a vivere Roma e a raccontarci la nostra vita. Lui è un mito nel suo paese. Fa conto che è pluripremiato nell'est Europa e di una caratura attoriale pazzesca. Per farti capire, una volta il suo accordo anulare di Roma, ha fatto finta in macchina di essere ubriaco. E io, che vivo di questo mestiere, ho pensato che fosse ubriaco davvero. Grandioso. No, l'Oscar è mio. Senza Jolt, italiano, vicino, niente. Lui è andato a Cannes e se lo merita. Ma la cosa bella è che con questa amicizia è sincera e coltiviamo insieme l'amore per le risate. Ci siamo divertiti tanto. Siamo andati a vedere il teatro insieme, dove una volta ci siamo pure addormentati. Beh, fa parte del gioco. Siamo andati al Pantheon a bere il prosecco come sfida ai turisti. In giro con monopattini elettrici per Roma a scoprire la città. Mangiato cibo ungherese e parlato tanto. Ma tanto da conoscere ognuno cose che solo le vere amicizie possono avere. Lui è famoso, un grande talento recitativo in più lingue. Ha una solidità, un successo invidiabile. Ma la sua bellezza e la sensibilità e questo ha fatto fiorire la nostra amicizia. Le cose non accadono mai per caso e sono convintissimo di questo. E sapete ormai come la penso. Questa amicizia doveva nascere e darà destino il nostro incontro. E tutto è pronto. Molti di noi non vedono chi c'è dietro ad una produzione cinematografica. Vediamo solo il risultato. E mentre agli inizi del cinema si usava i rulli o bobine ora è tutto digitale. Sì, lo so che lo sapevi ma quello che volevo farti sapere è che oggi davvero si girano tantissime ore. Ma davvero tantissime. e poi nel prodotto finale viene confezionato solo un'ora e mezza o massimo due. Insomma il risultato è dato anche molto dal montaggio, dai colori dalle riprese come vengono fatte. Direi che la recitazione è quella che si vede di più. Ma è la narrazione raccontata nelle scene che rende il film di spessore e soprattutto coinvolgente. Certo, se la recitazione fa cagare il film non vale niente ma con la post-produzione in parte si può correggere. C'era un ragazzo alla cinepresa non ricordo il nome ma contava molto nel film che aveva sempre un occhio di riguardo con me. Mi spingeva dentro il quadro di ripresa e con la testa mi accennava sempre la posizione giusta e non venivo mai spostato. Perché era lui che mi metteva a posto nell'inquadratura. Lo ringrazio davvero. Le cose belle sono fatte di particolari e lui me lo ricorderò sempre. Poi c'era un signore sempre con le cuffie in testa. Era davvero forte perché lui il film lo ascoltava. Era le orecchie del regista ed essendo tecnico del suono creava la giusta profondità alle parole degli attori. Davvero era fondamentale. Poi le trucatrici sempre a disposizione davvero sono sempre sotto stress. Ogni mattina andavo a fare colazione e mi venivano in mente loro. Mi sentivo sempre di dover far qualcosa e gli portavo sempre il pensierino una brioche di cioccolatini. Mi piaceva viziarle. Ma un personaggio mi ha davvero colpito. Era Ciro, l'aiuto regista una persona incredibile e in pratica la versione del regista nel campo cioè lui porta il peso di tutta la produzione. Deve trasformare l'idea di Moretti e metterla in pratica. Se dovessimo fare una similitudine Moretti è il poeta e Ciro è la penna e l'inchiostro che scrive il film. Wow, è bellissima questa immagine. Sicuramente il gran merito di Moretti è anche quello di aver scelto delle persone di livello altissimo e la possibilità per lui di poter confrontarsi con queste figure. Beh, fa la differenza sul prodotto finale. Sicuramente Moretti ha lasciato un'impronta nella storia del cinema italiano. Sicuramente questa esperienza mi serviva per poter capire questi meccanismi e riuscire a comprendere che il cinema mi piace moltissimo. Certo, passerei ore e ore seduto su una sedia ad aspettare il mio turno sotto il sole pieno di trucco ma quando senti il ciak non so come dirti. È come se si aprisse un varco in un mondo nuovo dove lo spazio e il tempo fino allo stop è immaginazione che si trasforma in realtà. È un tuffo in un'altra dimensione. Mi rendo conto che sono geloso di quei momenti e vorrei essere il pittore che disegna quelle dimensioni interpretandole e condividerle con gli altri. Perché chi fa cinema non deve mai dimenticare che per qualche ora ha la possibilità di far viaggiare le persone dentro il suo mondo e far vivere le proprie emozioni come un pittore quando si esprime nella sua tavolozza. Il cinema è un'arte che ti lascia la possibilità soggettiva di entrare in un mondo diverso è il tuo e che ti piace o no il film ti lascia quel gusto di aver provato almeno un po' la magia di vivere qualcosa di diverso da te. Ehi ridami l'Oscar! Scusa prendi gli antidepressivi? Azione! Scusa prendi Scusa prendi al prossimo video Ciao! 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 Grazie a tutti.